In presenza di un aneurisma della orta addominale sacculare, solo un lato della orta addominale sarà interessato. Quindi, quando si utilizza la scansione trasversale, il sacco può essere visto in continuazione con il lume della orta. L'aneurisma sacculare apparirà come un lume anecoico che sorge dal lume della orta addominale.